Aspetto. Forma generale. Il flacco a tedre Triever è un cane attivo, elegante e robusto di corporatura armoniosa. Dimensioni. Altezza algarrese. Maschi 58-61 cm, femmine 56-59 cm, peso, rispettivamente, 27-36 kg e 25-32 kg. Capo. Di forma nobile, lungo, moderatamente largo e corto nel cranio. Il passaggio dalla fronte piatta al muso è lungo e regolare. Il muso è quasi uguale in lunghezza e larghezza al cranio. Morso a forbice. Naso, con grandi narici aperte, nero nei cani neri e marrone nei cani color cioccolato. Le orecchie sono piccole, vicine alla testa. Gli occhi sono di media grandezza, di colore marrone scuro o nocciola. Coda. Non lungo e diritto, portato non al di sopra della linea del dorso. Lana. Sottili, fitti, non lunghi, aderenti, lucidi, con effetto idlorepellente, preferibilmente il più diretto possibile. Il pelo decorativo si sviluppa sul dorso degli arti, e sotto la coda. Colore. Nero solido o marrone scuro il documentalista liscio e dai capelli lisci è stato allevato in contrasto con il pelo riccio. Questa è una delle più antiche razze di Retriever. Esiste una versione che negli anni 60, 70 del 18 gradi secolo, i Terranova come i cani di San Giovanni furono incrociati con i collie, quindi, per consolidare le qualità dei cani d'acqua, furono infusi con il sangue dei setterneri, che gli consentirono per ottenere Retriever dai capelli lisci. Per la prima volta alla mostra, il cane da riporto dai capelli lisci fu mostrato a Birmingham nel 1860. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, il cane da riporto a pelo dritto assunse la posizione di cane da caccia più comune in Gran Bretagna, in seguito fu sostituito da Labrador e Golden Retriever. Si ritiene che tra i Retriever, il pelo dritto sia il più veloce, con la reazione più veloce. Il flacco a Ted Retriever è un cane molto intelligente, facile da addestrare. L'amore per i membri della famiglia in questo cane è sconfinato, tratta gli estranei in modo amichevole, ma, se necessario, protegge la sua casa e il proprietario. Siamo molto tolleranti verso animali e cani. A differenza di altri Retriever, questa razza non è divisa in due tipi. Spettacolo e campo. Gli stessi cani diventano con successo campioni di bellezza e prove sul campo. Questo cane versatile non è solo l'assistente di un cacciatore, ma compete anche con successo in obbedienza, agilità e servizio di ricerca. Questo cane è adatto a chi ama le lunghe passeggiate e le attività all'aria aperta. Punti salienti e fatti interessanti. Il flacco a Ted Retriever fu mostrato per la prima volta in una mostra inglese nel 1860, che si tenne ai Newton Park. Il flacco a Ted Retriever è stato riconosciuto dalla AKC nel 1915, ed è la sua 73esima razza. Durante la prima guerra mondiale, questi cani iniziarono ad essere usati come cani di servizio. Il patrono più famoso della razza, era MR.HR Cooke, che ha tenuto la razza nel suo favoloso allevamento per oltre 70 anni. Unico tra i cani di qualsiasi razza per numero e qualità dei riconoscimenti ricevuti dai suoi cani. Il flacco a Ted Retriever discende dalla stessa famiglia di Labrador Retriever del noto Labrador Retriever. Nel 1918, la popolarità superò il moderno Labrador Retriever, e, alla fine degli anni 20, il Golden Retriever. A volte, soprattutto durante le due guerre mondiali, il numero delle immatricolazioni, è sceso a livelli pericolosi. Storia della razza. Introdotto a metà del XIX secolo in Inghilterra, il cane da riporto a pelo dritto ha guadagnato popolarità come cane da guardia caccia. Si ritiene che alcuni dei suoi antenati discendano dal bestiame portato dal Nord America dall'ormai estinto cane d'acqua di San Giovanni, ma ciò non è stato confermato. Si ritiene che i marittimi canadesi abbiano portato i Terranova nei porti britannici, e abbiano contribuito alle origini del cane da riporto a pelo dritto. I cani collie potrebbero essere stati aggiunti per migliorare la capacità di apprendimento della razza, insieme a Terranova per forza e sangue Setter per una migliore capacità di annusare. I primi esemplari della razza, furono introdotti intorno al 1860, ma il tipo definitivo fu stabilito solo venti anni dopo. Dopo la sua introduzione negli Stati Uniti, il cane da riporto a pelo dritto ha rapidamente guadagnato popolarità come cane da caccia, e dal 1873, quando la razza è diventata un tipo stabile secondo l'American Kennel Club, il loro numero è cresciuto rapidamente. Tuttavia, la loro popolarità iniziò a declinare poco dopo, messa in ombra dal Golden Retriever, che in realtà, era allevato in parte da Retriever a pelo dritto insieme ad altre razze. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, c'erano così pochi Retriever a pelo dritto che la sopravvivenza della razza era discutibile. Tuttavia, a partire dagli anni Sessanta, un allevamento attento ha riportato la popolazione, e la razza è tornata popolare, sia per lo spettacolo che come animale domestico. Oggi, il Retriever a pelo dritto gode di una modesta popolarità, e sta progredendo come razza attraverso un attento allevamento per conformazione, salute, talento versatile e temperamento eccezionale, che sono i suoi tratti distintivi. Nel 2011, Jet, un cane da riporto a pelo dritto di nove anni di Soukens Ferry, vicino a Edimburgo, in Scozia, ha vinto il miglior nello show. Simon da Oslo, Norvegia, ha vinto il titolo di Best Fundo nel concorso 2007. In precedenza, nel 2003, anche un cane svedese ha vinto questo titolo. Queste vittorie hanno contribuito alla popolarità della razza in Europa, e nel Regno Unito. Tratti caratteriali distintivi. I cani di questa razza sono resistenti, energici, hanno un istinto acuto. Grazie alla sua eccellente capacità di nuoto e adattabilità alle immersioni, può cacciare sia la palude che gli uccelli acquatici. I Retriever dai capelli lisci hanno un carattere amichevole e di contatto, non incline all'aggressività. Questa razza ha bisogno di un addestramento delicato ma persistente poiché i cani sono altamente emotivi. Per lo stesso motivo, sono molto comunicativi e non tollerano la necessità di rimanere soli. Gli Strykoat e Retriever sono cani molto orientati alla socialità che mostrano un'elevata capacità di apprendimento e buone prestazioni in tutti i tipi di addestramento che imparano. Allo stesso tempo, i cani di questa razza non possono essere utilizzati dove è richiesta l'aggressività, che non è caratteristica per loro. Nonostante la loro sensibilità e capacità di abbaiare agli estranei, non sono adatti come protettivi o di sicurezza. Se tenuti con altri animali, vanno facilmente d'accordo con i rappresentanti della loro stessa specie, ma possono essere pericolosi per gli animali di altre specie, poiché hanno un istinto di caccia molto sviluppato. Manutenzione e cura. Il mantello di questi cani richiede una pettinatura regolare, poiché stanno attivamente perdendo. È inoltre necessario pulire regolarmente le orecchie dell'animale, soprattutto se il cane è abituato a lavorare in acqua, o semplicemente si lava frequentemente da solo. Le unghie devono essere tagliate frequentemente, poiché le unghie troppo lunghe possono causare disagio e problemi al cane quando cammina e corre. Il flacco a tedre-triever è una razza sportiva attiva che richiede un allenamento quotidiano per il benessere fisico e mentale. Possono essere lunghe passeggiate quotidiane e giochi con il proprietario. La razza allena anche la mente e il corpo impegnandosi in obbedienza, monitoraggio, agilità, rally e altre attività che il cane e il proprietario possono godere. Di solito sono facili da addestrare. Hanno una disposizione delicata e non rispondono bene a correzioni dure o metodi di insegnamento. Si consigliano sessioni di socializzazione precoce e addestramento del cucciolo per aiutarlo a trasformarlo in un compagno ben adattato e ben educato. Il cane da riporto a pelo piatto è adatto sia per essere tenuto in appartamento che in casa privata. Se tenuti in appartamento, questi cani richiedono una lunga passeggiata con la fornitura di vari tipi di carichi. È importante tenere traccia di quanto sta mangiando il tuo cane, poiché i retriever tendono ad essere sovrappeso e non sufficientemente sazi. Salute. I cani di questa razza hanno una tendenza genetica alle seguenti malattie. Displasia dell'anca, diabete, varie malattie degli occhi. Per la presenza di queste malattie, e dei geni a cui sono associate, i cani di questa razza vengono sottoposti a test genetici prima di essere utilizzati per l'accoppiamento. Inoltre, i cani di questa razza possono essere inclini allo sviluppo di epilessia e sordità. Prezzo e come acquistare correttamente. L'acquisto di retriever dagli allevatori può essere proibitivo. A seconda dell'allevatore e del pedigree, di solito costano da 1000 dollari a 2000 dollari. Linea di fondo. Flacco a tedre triever, razza di cane da caccia inglese, allevato sulla base dell'abrador retriever, setter e pointer. Si differenzia dagli altri retriever per il pelo dritto e il colore marrone o nero. Resistente durante la caccia agli uccelli acquatici. Cane da compagnia. La scog con i bambini. Meno popolare di Labrador e Golden Retriever. Un altro nome per la razza, è retriever piatto e dai capelli lisci.